amici di live social ben ritrovati siamo sempre in onda su radio veronica one e continuiamo con le nostre chiacchierate interessantissime questa sera ci dirigiamo verso il mondo dell'arte lo facciamo insieme a due artisti che sono battistini plauso nivo e ivan palazzolo buonasera 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 a voi grazie di essere qui con noi e di raccontarci un pochino il vostro mondo perché voi siete degli artisti ma io lascio la parola a voi per spiegare un pochino qual è la vostra arte bene allora per quanto riguarda me le mie esperienze arrivano dal teatro ho sempre lavorato da fin dal ragazzo nell'ambito della scenografia teatrale ero scenografo al teatro reggio di torino fino al 1995 giorno e mese anno penso aprile abbiamo avuto un incontro con ivan ok che ci ha portato alla creazione del vostro duo del nostro duo benissimo è una combinazione delle vostre energie di artistiche quindi sì abbiamo creato una discreta sinergia direi perfetto quindi con questa sinergia diciamo improvvisata sul momento si è ampliata verso una direzione che è quella della gestione dell'immagine riguardante soprattutto ambienti da rendere più divertenti meno ansiosi più originali dove comunque la fantasia può dare un grosso apporto certo e aiutare moltissimo soprattutto le persone che stanno dentro soprattutto chi è all'interno del certo dell'ambiente quindi banalmente io vi chiedo ma attraverso quale mezzo fate in modo che appunto quest'arte venga manifestata e allora con i trompe l'oeil sicuramente ok e sviluppiamo dal progetto alla realizzazione in base a tutta una serie di richieste che ci vengono fatti dai convittenti certo quindi ivan del murales ma non solo anche dall'arredo arredi particolari wow certo lo seguiamo dall'inizio della fine certo ecco bene bene adesso per esempio siamo in procinto di stiamo proprio portando avanti un discorso abbastanza complesso con le carceri di alessandria di massima sicurezza ecco un 41 bis quasi sicuramente si chiamano carceri praticamente san michele se non erro se san michele queste carceri hanno bisogno di dare un apporto soprattutto per chi va a visitare i parenti che sono detenuti e sono soprattutto bambini ragazzini donne marimogli eccetera che comunque entrano in un ambiente assolutamente angusto e quindi è meglio grazie a una la dottoressa stuccilli grazie a dottoressa stuccilli ecco c'è stata una persona che vi ha contattato per questo progetto assolutamente sì e ha richiesto e ha portato avanti questo discorso di un progetto che viene chiamato acquarium bellissimo che dà un pochino l'idea di quello che sarà il progetto vero benissimo bello e davvero molto molto bello quindi la vostra diciamo il vostro la vostra mano serve anche a dare un apporto emotivo se abbiamo dovuto in base a determinati praticamente ambienti ricreare gli spazi giusti perché si segue una linea abbastanza precisa per questi per questi ragazzi e bambini che devono attraversare certo corridoi piuttosto angusti abbastanza tetri possiamo dire sì piuttosto tristi certo e niente quindi adesso è in fase di evoluzione il progetto si sta sviluppando e stiamo andando avanti e questo è grosso poi facciamo anche i locali a tema ci sono quindi io ho un sito web che il vostro sito web che www.superficideautore.org invitiamo quindi tutte le persone che ci stanno ascoltando ad andare assolutamente a vedere appunto questi questi lavori perché dal vivo sicuramente saranno tutta un'altra cosa ovviamente spiegarli a voce molto difficile ma vedere anche solo in foto come può essere un progetto finito deve essere stupendo sono interessanti certo avete anche un instagram che è superfici d'autore e una pagina facebook che è sempre superfici d'autore e dunque noi abbiamo anche un numero di telefono che è il 347 69 87 223 benissimo noi vi ringraziamo davvero di essere stati qui con noi di aver condiviso con noi questo piccolo spazio d'arte grazie a voi grazie ciao 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 Grazie a tutti.